Jonathan in I, a sparare a zero su tutti quanti Amaury è il nuovo finalista, anzi è il primo finalista dell'Isola dei famosi 2018 Trino 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 trino... Eeeeeeee Mallorca Iiii...Solani, Iiii...Solare... Sarebbevenuti in questo nuovissimo video riassunto dell'isola dei famosi, che è quasi finita ragazzi, stiamo alla semifinale cioè nel senso, la prossima è la semifinale voi mi dite, perché ho gli occhiali da sole ma perché stiamo in Honduras sapete che io sono sempre avvezzo a trasportarmi in Honduras, ma in realtà sto in camera mia quindi li tolgo, iniziamo subito subito due notizie bomba, appena inizia l'isola, prima notizia è che i concorrenti decideranno chi andrà in finale, quindi sapremo forse già non sta scritto nel titolo però vabbè, sapremo chi andrà in finale la seconda notizia appunto che Franco ha abbandonato per motivi di salute l'isola dei famosi ma adesso ne parliamo motivi di salute, allora perché questi motivi di salute? I motivi di salute sono subentrati dopo la lite con varie persone, tra cui Amaury, Elena, Alessia praticamente Franco ha risicato con tante persone che lo hanno sgamato, tra virgolette all'improvviso si è fatto vedere qualcosa e ha abbandonato perché gli hanno fatto capire la persona che è poi può essere pure che se mi tolgo male davvero se mi tolgo male davvero spero che adesso sta bene e che io sono una persona malvagia che penso che lui stava male per finta ok va bene poi la questione si sofferma sul fatto del chiamare o quella quelle persone Meggere hanno chiamato Meggere praticamente Elena e Rosa quando Elena e Rosa non erano su quell'isola come sapevate stavano all'altra isola eccetera ma io vi lascio gli altri video riassunti se li recuperate tutti quanti vi siete fatti tutte le sole famosi e potete essere aggiornati di tutto ma è fantastico ovviamente di questa cosa che appunto Rosa ed Elena sono state chiamate Meggere non ci sono prove perché hanno detto che praticamente i naufraghi aspettavano quindi Alessia il gruppo il gruppo Bibbia Alessia Franco eccetera 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 Mauri eccetera aspettavano che le persone se ne andassero anche Bianca se ne aspettava che le persone se ne andassero i Cameron se ne andassero dalla ripresa poi parlavano male di Elena e Rosa dicendo appunto che erano Meggere su questo discorso si sta una buona oretta una buona mezz'oretta tutto l'inizio della puntata e poi Alessia ci dice che la contrata andrà in onda la semifinale andrà in onda di lunedì quindi praticamente hanno cambiato più volte gli orari di queste dirette che i corsi della mia palestra ma questo è un dettaglio poi partiamo subito con la prova ricompensa che praticamente consisteva nell'andare in una gabbia a prendere una frutta e poi dopo fare canestro in un cestino il canestro si doveva riempire e poi alzare l'altra frutta comunque si vincevano 10 kg di frutta ma ahimè hanno perso la cosa più adorabile è stata Francesca eh Francesca la cosa più adorabile è stata Francesca Cipriani che diceva io voglio la cioccolata voglio la cioccolata ma cara mia tu devi sapere che è appena passata Pasqua qui e io ieri ho fatto colazione con la cioccolata pranzo con la cioccolata spuntino con la cioccolata e la cena con la cioccolata sto facendo una dieta a base di cioccolata e se voi mi seguite e sapete che io sto facendo la dieta questa è la mia nuova dieta la dieta a base di cioccolata quindi Francesca se vuoi io te ne do io un poco perché io veramente sto facendo indigestione di cioccolata e passiamo al momento più topico ed epico diciamo di trash sbarra allusioni e sgamamenti si può dire di Jonathan stavamo parlando appunto di Jonathan e Alessia dove parlavano eccetera all'improvviso Jonathan dice Alessia senti una cosa ma tu hai tutto della vita hai un marito hai avuto un bel lavoro sei una bella ragazza sia dentro che fuori ma perché tutta questa cattiveria nei nostri confronti e Alessia praticamente lo accusa di una cosa e Jonathan all'improvviso dice ah va bene allora adesso io parlo io adesso parlo io vuoi dire parlo io adesso vuoi dire parlo io e mare e Alessia gli dicono però se dici che devi parlare parla e parlaci perché noi vogliamo sapere quindi anche Alessia ha detto parlaci e facci sapere Jonathan inizia a sparare a zero su tutti quanti all'inizio dice che Alessia praticamente sparlava di tutti quanti che Simone non avrebbe mai trovato una ragazza che Nadia aveva la cattiveria dell'ex obesa comunque un sacco un sacco di cose veramente crude che secondo me Alessia ha detto perché Jonathan non è che si sveglia la mattina e dice cazzate che Alessia ha detto ma ovviamente che ha negato e Alessia invece Marcuzzi subito dice aspetta Jonathan ma sono delle accuse gravi queste no non si fa così quando prima gli ha detto parlaci allora se Jonathan ti devi dire tutto ti dice tutto te lo dice però tu adesso stai zitta non se ne può più di questa Alessia basta Alessia ha condotto secondo me malissimo adesso che siamo agli sgoccio vi posso dirlo secondo me Alessia Marcuzzi ha tenuto quest'isola dei famosi uno scempio è stato un covo di galline che si prendevano di qua di là di là e lei non era nemmeno il pollo era una gallina tra le galline quindi il caos più totale più totale e quindi questa inutile dirvi che io sono Tim Jonathan e secondo me Jonathan ha ragione anche se Jonathan anche secondo me è un po' non vuole dare ragione a qualcuno cioè dice vabbè non mi interessa però secondo me queste cose che ha detto sono vere perché sono come fai a inventarti queste cose cioè non puoi e ad abbandonare l'isola dei famosi tra Jonathan Gaspare e Francesca Cipriani è Francesca Cipriani e lì Twitter è impazzito no Francesca 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 no ritorna ti prego come avete fatto a eliminare Francesca Cipriani io non lo so eravamo tutti quanti disperati fin quando Alessia dice che deve fare lo spareggio il ballottaggio quindi un televoto lampo con le sospese quindi con Elena e Rosa a televoto andranno Francesca Elena e Rosa e lo vinceranno Francesca e Rosa quindi Elena abbandona l'isola mi dispiace Elena ma siamo i sgoccioli a noi Francesca Cipriani serve molto io so che tu ci vuoi capire vabbè poi si parla di Bianca Cazzosella non ci interessa passiamo oltre poi entra Simone Studio parla della sua nella sua isola e poi in tutto ciò Francesca e Rosa saranno comunque sospese penso che funzionerà come sempre cioè l'eliminato di chi è dal televoto poi va con le sospese fanno un ballottaggio le voto lampo e poi si capisce chi viene eliminato quindi penso che sia più o meno lo stesso meccanismo anche se io pensavo che gli togliessero la sospensione però e poi la cosa più diciamo significativa perché abbiamo un finalista cavolo abbiamo un finalista vi leggo chi ha votato chi perché è molto importante sapere chi ha votato chi ma per Amaury deve andare in finale Alessia quindi già vedete il gruppo Bianca ha votato Nino e Alessia non è stata molto d'accordo perché pensava che votassero lei tutti quanti infatti ho fatto anche un tweet dove diceva appunto che Alessia secondo me non si è autovotata che si poteva anche autovotare non si è autovotata un po' per non essere giudicata un po' perché sapeva che era palese quindi si metteva il pubblico contro e non l'ha fatto comunque Nino poi vota Amaury Jonathan vota Bianca e Alessia vota Amaury anche lei quindi con due voti Amaury è il nuovo finalista anzi il primo finalista dell'Isola dei famosi 2018 applausi regia applausi bravo stranamente non fanno la prova del peor e del mehor non so perché per come per quando parlano ancora in studio eccetera 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 e poi viene il momento nomination e i nominati saranno e sono Jonathan e Alessia così le due diciamo cofazio cofazio le due le due costellazioni le due le due fazioni Jonathan e Alessia contro vedremo chi vincerà Alessia amata molto dal pubblico e rappresenta Yold e Jonathan amato lo stesso dal pubblico e rappresenta Young quindi le due generazioni a confronto e vedremo chi vincerà io come ho detto sono team 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 Jonathan e forse il pubblico sarà soggiugato e sarà un po' condizionato da quello che avrà detto sicuramente Jonathan e Alessia quindi dà i saluti a lunedì prossimo la prima diretta che sarà non e Alessia infine dà il saluto finale a lunedì che è l'ultima diretta in Honduras perché la semifinale e ovviamente la finale si farà a Milano o a Roma non lo so dove sono in quale città del mondo però questo è tutto è finito anche questo video recensioni e finirà presto questa rubrica perché è finita l'isola dei famosi ma voi fatemi sapere ovviamente se volete quella del GF NIP che non è NNVIP è NIP quindi ancora più curioso di scoprire le identità le personalità analizzeremo spero che ci sia la diretta 24 su 24 così lo potremo fare ancora meglio e niente noi ci vediamo al prossimo video e PRIDE LIFE grazie a tutti